Allora, salve a tutti ragazzi, qui ci sono ritorno di questo nuovissimo video e come vedete siamo su Fortnite, quindi vi chiedo di lasciare un bellissimo like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E vi ho voluto portare a Fortnite perché, non lo so, mi sta piacendo come gioco, ci sto giocando veramente tanto e penso di essere migliorato Solamente che ho dovuto cambiare account, giustamente, perché nel precedente mi hanno bannato Siamo atterrati su Fatal Field, spero di non fare una figuraccia, a meno che, però, ci sono già tre persone e io non sono ancora atterrato in confronto a loro Buono, buono, vediamo se in questa stalla riesco a trovare qualcosa di decente, se si trova qualcosa qui possiamo già andare a lottare Buono, subito una mitraglietta con silenziatore che, fidatevi di me, non è male Mi prendo in mano subito quello e c'è anche una cesta qui, buonissimo Vediamo cosa c'è, comunque ci prendiamo tutto, è tutto buono, le granate le lascio qui e mi prendo questo per il momento in mano Siamo anche nella safe subito, quindi è una cosa a dir poco ottima perché non mi possono, non posso morire per colpa della safe Sento una cesta, però c'ho paura a salire perché ho paura che arrivino questi qua Ok, la cesta l'ho trovata, vediamo cosa c'è, c'è un medikit molto buono Ehm, tutto il resto, mi prendo anche questo altro fucile d'assalto, raga, perché comunque dovremmo adattarci a qualcosa Eccolo, raga, l'ho visto, l'ho visto e sono morto, puttana ladra Non vale però, raga, mi ha colpito da dietro e puttana, se l'avessi trovato davanti subito faccia a faccia l'avrei uccisa Adesso cambiavo un attimino zona perché non mi è piaciuta questa, eh Allora, stavolta mi voglio andare a buttare in un posto un po' più diverso, nel senso, nella foresta Poi come va, va, raga, perché non cambia un cazzo Cioè, buttarsi nella foresta o meno Mi faccio un attimo di planatura Vedo che per il momento c'è solo una persona che sta qui con me Anzi, ne vedo un bel po', quindi la prima cosa che trovo Mi ci fiondo, c'è questa Eccola Eccola, la prima persona Che però non riesco ad uccidere, puttana ladra Eccola, prima uccisione subito Tanta roba, tanta roba Anche se non è stata una di quelle uccisioni bellissime Però, intanto, ce la siamo fatta Siamo anche leggermente fuori dalla safe Ma questo, sinceramente, non mi preoccupa Mi prendo un attimino questo e mi prendo la chest Perché potrebbe... Eccolo qui, raga Fatemi ro No, raga, no, raga No cazzo, non mi ha caricato il fucile Non mi ha caricato il fucile Puttana ladra E poi non capisco il fatto Che ogni volta che inizio a registrare Muoio Non capisco perché Poi quando gioco per i cazzi miei Arrivo anche in posizioni decenti Quinto Quarto Non tantissime Non posizioni che Puttana ladra Sono belle tozze Però Qualcosa la faccio sempre Allora, stavolta mi butto più Perché È un posto dove ci sono i container E sinceramente non sto notando nessun giocatore Che si è buttato Quindi Come cosa potrebbe essere anche positiva Anche se sta nel fatto che non ho ancora visto neanche un'arma Allora, ci prendiamo come prima cosa la chest Quindi mi dà un po' di band Un po' di proiett È un'arma L'arma è sempre buona raga Perché Essendo io una mezza sega Quest'oggi Soprattutto nel giocare Mi devo prendere un po' di armi Visto che ci sono Che Soprattutto non c'è nessuno Mi prendo anche un bel po' di materiali Anche se è ferro Comunque Sempre materiali Uh Guardate cosa ho trovato In giro Andando nella safe Un bello scudo Che Sinceramente mi può aiutare Lì c'è anche delle armi Quindi adesso Lo scudo Me lo bevo praticamente subito Perché è utile Molto Ok Un bel pompa pesante Scialla ci sta C'è anche 13 colpi Quindi Se becchiamo qualcuno Possiamo fare anche il culo Allora Allora Molto brutto Mi sono bruciato Forse Forse Tutta la partita Forse Vediamo un attimo Mi metto il fucile in mano E gli entra Cazzo in culo in faccia Ragazzi Cazzo in culo in faccia Ci prendiamo praticamente Tutto quello che si può prendere Vaffanculo Adesso mi devo curare Molto bene Siamo Nella merda Ragazzi Siamo nella merda Perché la safe Praticamente È dall'altra parte Del gioco Sfortuna vola Che manca Anche due minuti Qui non c'è nessuno Qui ormai Non c'è proprio nessuno In tutto il paese Però Ci sono solo io E devo correre Come un indemoniato Ok Ditemi da dove mi hanno ucciso Mi hanno ucciso da dietro Brutti pezzi di merda Bastardi Però Ci siamo posizionati quarti Ci facciamo l'ultimo tentativo Allora Terza e ultima gara Dove andiamo a buttarci? Sinceramente non lo so Sinceramente non lo so Io proverei Graze Groove A questo punto Dalla partita Tanto Cioè raga Non cambia assolutamente Niente E per sbaglio Mi sono anche buttato Wow Allora Un'arma buona Come prima cosa L'ho trovata E sinceramente Mi può aiutare Quest'arma Anche se non è Il massimo Del massimo Del massimo Che si possa ottenere Lutando Però Ci accontentiamo di questo Queste mi hanno date Io questo Mi pendo C'è anche un revolver Che sinceramente Non è che sia anche questo Il massimo Però ci teniamo anche questo Raga 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 Prima kill Guardate da dove cazzo Sono andato a farla Questa kill Tanta roba Lui stava Concentrando sicuramente Con qualcun altro Perché stava mirando Da un'altra parte E mamma mia Che kill Tanta roba Perché c'è anche un medic Che è una cosa A dir poco Magnifica Io mi prendo Praticamente tutto Bende Tutto Medikit Fotte cazzi No Le bende le lascio Ecco 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 C'è da dire che Ecco Puttana ladra Quindi ragazzi E vabbè Due kill In quattro partite O in tre partite Adesso non mi ricordo Quante ne ho fatte Però Ci ho provato Non lo so Potevo fare di meglio Sicuramente si Magari adesso Mi metto a giocare Senza registrare E faccio 800 punte 800 kill E tante altre cazzate Quindi ci vediamo Se non mi sbaglio Lunedì Con un video Che sarà diverso Ragazzi Ve lo giuro Sarà diverso Perché ho in mente Di fare una cosa Molto carina Quindi spero Che voi guardate Il video Tutto Soprattutto Ci vediamo mercoledì Prossimo Con un altro video Di fortnite Sì Vi voglio portare Un altro video Di fortnite E vi prometto Che la prossima volta Arrivaremo in top 10 Questa era una prova Perché Non so Mi hanno bannato Ho voluto rigiocare E ho fatto merda Oggi Però Cozzo Ci potevamo fare di meglio Sicuramente Lasciate un like Iscrivete al canale Se ancora non avete fatto Facebook In descrizione Vi lascio in descrizione Anche L'account del mio Grafico E ci vediamo Mercoledì Con fortnite Bella Bella